Buongiorno a tutti, a nome dell'Istituto Superiore di Sanità vi do il mio benvenuto e in bocca al lupo per i lavori che farete nei prossimi tre giorni. Sono lavori particolarmente importanti e in qualche modo anticipano un po' quello che sarà l'attività dell'Istituto Superiore di Sanità nel prossimo futuro. Perché proprio da un confronto come il vostro, multidisciplinare, multisettoriale, dal confronto tra diversi punti di vista, ma tutti quanti accomunati da due stelle polari, l'interesse dei cittadini, nel caso specifico dei bambini, e l'evidenza scientifica che si potrà dare al nostro sistema sanitario qualità e sostenibilità. Effettivamente è quello che vogliamo fare nel prossimo futuro, ci stiamo riorganizzando per questo e per cui terremo veramente in grande considerazione, e non lo dico soltanto formalmente, i risultati dei vostri lavori per creare un sistema, una serie di reti e una serie di percorsi che siano improntati proprio all'evidenza scientifica e che in questo modo garantiscano ai nostri bambini le migliori qualità sia in termini diagnostici che in termini terapeutici.